Carmen Russo. La confessione e la verità mai rivelata prima su suo marito Enzo Paolo Turchi. Ecco cosa ha detto. Una delle donne che per anni ha rappresentato l'icona sexy del mondo dello spettacolo italiano è proprio la bellissima Carmen Russo. Nel corso della sua carriera, infatti, ha partecipato nel ruolo di valletta a diversi programmi di successo uno fra tanti proprio drive-in. Finalmente, dopo anni di matrimonio con Enzo Paolo Turchi ha voluto svelare un segreto. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La sua bellezza e la sua presenza fisica imponente. Ha fatto di Carmen Russo uno dei pilastri della commedia sexy all'italiana. La donna, infatti, giovanissima partecipa a diversi film come La città delle donne di Fellini. Mia moglie torna a scuola. Giovani, belle. Probabilmente ricche e Paolo Roberto Cotechino centra avanti di sfondamento. Pian piano che sono passati gli anni. Carmen Russo ha cambiato radicalmente il suo look facendosi apprezzare meglio dal pubblico. Infatti, oltre i film, la donna si è resa protagonista di alcuni programmi tv di successo come tale e quale show, Bake Off, Grande Fratello, L'isola dei famosi e stupido hotel. Circa la vita sentimentale. Da anni ormai è legata a Enzo Paolo Turchi. Noto ballerino e coreografo di Raffaele Car che per anni è stato uno dei punti di riferimento del varietà italiano. Oggi, dopo anni, sono diventati genitori della piccola Maria. Ottenuta grazie alla fecondazione assistita tanto che ella ha rivelato che la sua vita è cambiata in meglio. Carmen Russo. Il segreto di Enzo Paolo Turchi. Ecco di che si tratta. Un amore così grande. È il titolo di una nota canzone che ha fatto la storia della musica italiana nel mondo e che può riassumere la bellissima storia d'amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. I due stanno insieme da moltissimi anni, precisamente 40, e la loro fiamma, nonostante alti e bassi, non si è mai spenta. In una intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, la coppia ha svelato il loro segreto che rappresenta il fulcro della loro storia d'amore, un segreto semplice ma importantissimo. Proprio Carmen ha confessato. La voglia di condividere tutto. Poi la sincerità. Il rispetto. La stima. Il non darsi per scontati. L'alimentare la passione. Che cambia rispetto ai primi tempi ma non deve mancare. Così come un pizzico di romanticismo. E, ancora. Sono sincera. Dico le cose senza giri di parole e capita che dal confronto si passi allo scontro. Ma dura poco. Teniamo il muso. Enzo a volte fa la borsa e prende il cancello di casa. Ma poi, con una scusa qualsiasi, dopo mezz'ora torna indietro. Ci basta poco per fare pace.